Ecco, buongiorno e bentrovati per i giornati a una nuova recensione di un gioco molto interessante che è Gansgur and Cannoli, sarebbe Gansgur and Cannoli, sono troppo buoni i cannoli, allora faremo la partita in due, normale direi, impossibile c'è anche la potenza, quindi gioca, io come al solito non sento l'audio, mi serve uno sdoppiatore per le cuffie, oppure se qualcuno conosce un metodo migliore, ma è uguale, tanto c'è la musica messicana, Eh, non è messicana la musica, è quella. È una musica tipica, terronica. Oh cavoluccio? Ce l'hai intro ma fiosa no? Nooo, non togli Non lo fai vedere È un introno di carma Della madre Trofa un bambuccio Trofa un bambuccio Ma io non sento Ah ok Allora parlo da soli Ma no Ma non si fa una roba Nessi tentivo Siamo i zombie Tu sei stimazione Però effettivamente ha senso Guardare la 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 Questa è la 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 Questa in barca dove sta andando? Mattia? Eh? Mi fai un numero di assunto di qua? Io non sento, vabbè, basso, so. Ok. Ok. Va bene, sono pieno di zombie, devi sparare su quel, questo. Il sucio è questo e questo. Premi è stato a saltare, ti interessa, non pensano se, se è presso che finita. Buongiorno a tutti, capitani, ti vado a scappare, qualcuno, sogno, stai spostando, stai spostando, stai spostando, stai spostando, stai spostando, stai spostando. Quelli spero che non erano i zombie. Beh, lo so già com'è, giusto. Ok. Che respostarti è anche rapidamente. io sono quello che fa io sono il barpone con l'impermeabile perché sono il barpone di sparare aspetta stavolta nei tasti ti sto aiutando e fa due per i caricati se l'ha zoppato un fucile mio mio no occhio occhio a questo amore a quello via lontano che scoppia secondo me cioè secondo me e scoppia che non spiella la successiva ma questi sono scontato staranno mafiosi dietro 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 e calcio mi stanno con questo aspetta per provare non servono a niente si lo servono a niente servono solo per allontanarli sparano devi sparare tu perchè io ho le scale qualcuno ha preso una granata non posso aiutare figo come si usa qua mafiosi anche spazio si 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 insomma è carino come si sale nelle scale? devi andare sotto nelle scale e come si fa? fai ah è difficile ahia il boomer ma che boomer? è un boomer ma sono un macellaio va che schifo eh era come il boomer si no black check si ah questo è il checkpoint ok tre granate da usare prima o poi eh e qua non ce ne sono di più la doppietta tiene pronto up arrow per saltare più in alto un po' di tipo di fubra americana no c'è schifo c'è schifo c'è schifo entriamo dentro la stiva di questa nave ma no ma no dove si va? non so dove si va qua si fa salire su questo no dai non si può bloccare questa roba ahhh 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 qua che devo fare il parkour con sta roba ma lei da dove si va oh si è finita dalla mattina e dove sono? ma non è vero io devo ricaricare ma è il fuoco fuoco? il fuoco fuoco? stanna ti fuoco? si fuoco il fuoco ma pensavo fuoco questa è mia è un mitro è il mio il più forte del tuo in realtà il più uccide è più forte lo so ma del tuo mitra con la che avevi prima sparatutto e tanto su è sparatutto ma io mi sto uccidendo me sta uccidendo come l'ho colpito pensavo di essere morto un nuovo punto di salvataggio e questo va spunto dall'altra parte cos'è 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 ah che dobbiamo schicciare da qualche parte non è vero 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 tantissimo oh si ma non devi scappare cosa sai scappi? mi fa paura maia non è vero non è vero ma il maslè il maslè il maslè spara il maslè su maia ma non possiamo spostarci da qua è stato un attimo guarda è svegliente lì aia vieni Mattia stiamo qua a aspettare che abbiamo tutti il maschino di buco stiamo morendo per cioè cerchiamolo di riuscire cioè a fine il primo diverso eh sta arrivando si sta arrivando intanto che noi non si apriamo più di riuscire Matti ma che colpa ma stai guardando che colpa hai fatto ma colpo di che cosa? allora dobbiamo uscire lo sai che io adesso so solo giocherà a minecraft eh non so boom skip skip aia dai basta da sotto lascelo vediamo se si pusha da di qua no siamo finiti in un piccolo cieco prima ci ha fatto vedere con la roba lì magari lo posso finare si magari stiamo morendo lentamente io sto morendo se possiamo arrivare così ah eccola dobbiamo aspettare che arrivasse se ci sono i 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 non c'era tanta bellezza per il momento vedo solo uno spara spara vedi? no c'è una sola cosa di più ispirato mentre che vai alla... guarda! basta! tanto li troveremo cosa li troveremo? l'ho mai l'ho mai pochi anche sottocchiato come stai spiega aspetta aspetta scuola scuola è la vita in terzo c'è il corpo posto di piedi spazi un po' di legno ma mamma cos'è? è una donna rompibata chi è? non c'è una donna rompibata non c'è una donna rompibata è un tank è un tank, eh? questi idios dove fatti? cos'è? chi è il mio peso? mamma non credo no no anche io ce l'ho ma la magno è? ah c'è anche il fucile ma c'è anche il fucile no c'è il fucile è anche magno dai mamma mia so forte dai questo è esplosibile è esplosibile di piegare la nonna la nonna la nonna la nonna la nonna la nonna l'abbiamo da voi non abbiamo fatto la nonna ma io non ci vediamo l'abbiamo finito un livello o cosa si sa? no l'abbiamo finito l'abbiamo finito l'abbiamo finito l'abbiamo finito eh sì vabbè l'abbiamo finito però la tastiera no oh sto spruzzo si comunque è tendentino un po' che so non faccio non tirare adesso via bonzo pensaci tu dai il prova avanti credibile da pace basta dire che con questa doppia morte si vuole chiudere il gameplay perchè non si riloggiò e io sono il più forte di tutti questa stupidaggine aspetta cosa fai spengo e 2 se vuoi dire qualcosa di triste alla fine ciao 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 ciao